aggraziati furtivi e bellissimi i felini ci affascinano alcuni sono veloci altri forti ognuno è un meccanismo precisamente adattato al proprio ambiente ma supponiamo che ne esista uno perfetto in tutte le condizioni un cacciatore supremo la somma di tutte le potenzialità dei felini un predatore perfetto come sarebbe fatto un simile prodigio potrebbe mai diventare realtà